All'apparato digerente. Perché ci si ammala? Non ci si ammala a caso. Ogni malattia che è una limitazione fisica esprime una limitazione spirituale. Spesso si è colpiti dal cancro all'apparato digerente perché si è data troppa importanza al cibo. Per importanza le guide intendono che si è molto amato o molto odiato intimamente il cibo.